Che fine ha fatto Bladecore? Perché non ha fatto più video? Per... Perché? Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Bladecore e benvenuti in questo mio nuovo video qui sul mio canale Sì, veramente ragazzi, sono stato assente per quasi un mese, devo dire Ma oggi siamo qui, siamo tornati Comunque avevo problemi alle cuffie, eh? Soprattutto ha il microfono Infatti mi sono dovuto comprare questo cosetto qui che... Vabbè, già lo sapete che è una... Se volete, commentate sotto a questo video il vostro nome In modo tale che al prossimo video io vi saluto direttamente in live Vi lascio al video, ciao belli Yo, bella ragazzi, ci siamo Siamo in partita con il nostro Giazu Allora, ma perché abbiamo Vabbè ragazzi, è fatto una normal, quindi... L'agenda trolla, ok Abbiamo due jungler, in effetti E di là, dovremmo... Il mid laner dovrebbe... What the fuck Forse Garen o Lucian Non lo so Ragazzi, è proprio Irelia Eh già, eh già Ciao Irelia Tutto bene Oh cazzo, ho failato Oh cazzo, ho failato ancora Eh no, ma con il conquistatore Non è che mi fai fuori, eh Non è che mi fai fuori Ragazzi, ha anche il TP, quindi Non ci dobbiamo stare attenti per quanto riguarda l'Ignite Questa è la prima volta, ragazzi, che gioco contro Irelia Per quanto riguarda il rework che hanno fatto la patch Quindi, vediamo cosa succede Vediamo un po' Oh Allora, la pozione della corruzione What the fuck? Cos'è qua? What the fuck? Non ha capito, volevi fare il giampetto Volevi fare il giampetto, tu Eh, volevi fare il trick qua Oh Sono più io più forte, hai capito? Andiamoci in base, va Ragazzi, tu ci vuoi No, ma tu vuoi perdere ancora, eh? Ma tu vuoi perdere ancora? Ma vuoi perdere ancora, tu? Eh? Eh? Non c'è storia Non c'è storia What the fuck? Ma neanche per te Neanche per te Io vi desintegro tutti Vi desintegro Uno a uno Madonna, va anche il buff, ragazzi Va anche il buff No, no Il buff Nel senso, i buff Oddio, un pochino A posto Eh Sì, facciamoci l'inferno Allora, vediamo se la tizia ci sta Sì, però Ma che cazzo, perché? Non è morto Quel pezzo di Cavolo Mi esce anche una voce strana Che non è la mia Ragazzi, ci provo Ci provo Tutte e due guasciotti Sia reglia sia Arriva Garen Ma con questa torre, ragazzi Ce la famo Ce la famo Sì che ce la famo Sì che ce la famo Sì che ce la famo Oddio 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 Quanti ne so Quanti ne so What the fuck No, ma io mi devo fare quel gare Nel lì No, dai No, che succede? Vediamo, raga Trajardiamo, ma Ovvio Sì 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 Eh Qui si finisce Qui si finisce Cazzo di copia Ah, tanto Molto di kill Oddio Quanto è rimasto Chiudiamo, ragazzi Chiudiamo Chiudiamola qua Dai, chiudiamola qua Su, 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 su Ok Dai Senza paura Senza paura Ok, ha ultrato Dai GG Oddio No No Attenzione, rega Attenzione, rega Attenzione, rega Ragazzi Ragazzi, io sto qua Eh, chi mi vuole Mi può trovare qui Ragazzi Vi metto un attimo Su analflauto Che ho lezioni di musica E, no, no Se mi vuoi sto qua Io lo spamo pure una maestria Di prepotenza Non lo so Ragazzi Per oggi è tutto Questa rula è qualcosa di mostruoso Di mostruoso Se il video vi è piaciuto Riccomandomi Lasciate un bel like E noi ci E mi raccomando Scrivete anche il vostro nome Sotto Ai commenti In modo tale Che così io Al prossimo video Vi saluto Ciao ragazzi Ciao ragazzi